Ciao amiche, parte l'estrazione del JinjaWai, come vedete qui ho i vostri 30 nomi perché siete 30 iscritti e qui ci sono i premi, primo premio, secondo premio, parto con l'estrazione scusate se faccio veloce ma come sapete non posso fare un video di più minuti, quindi parto con l'estrazione, giro, 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 vediamo il primo nome estratto che vincerà il primo premio, allora, primo nome, Virgi Bichu, vince il primo premio con il numero 7 del JinjaWai, Virgi Bichu, partiamo con la seconda estrazione, cioè io adesso vi faccio vedere, bene, giro anche così, così non mi potete dire niente, mischio, secondo estratto con il numero 18, Miss P Skip, cioè scusate se non l'ho pronunciato bene, ripronuncio, Miss Skip, quindi contattatevi perché avete vinto il primo premio Virgi Bichu con il numero 7 e Miss Skip con il numero 18, questi sono altri nomi vostri che non sono stati estratti che io non cancellerò perché se avrete piaciuto di partecipare al mio secondo JinjaWai, li tengo, ecco, spero che siate soddisfatti di questa estrazione, vi rimostro i premi, vi mostro i nomi, anche se non si vedono bene, e contattatemi in privato perché sabato prossimo farò la spedizione dei premi, ciao!